ma senti dobbiamo cambiare argomento ci occuperemo adesso di un festival bellissimo lo seguo da tanti anni perché è un punto di riferimento per l'animazione, il cinema d'animazione che è Cartoons on the Bay è un festival che organizza la RAI lui è Roberto Genovese il direttore artistico contatto che ci ha dato la mitica Raffaella Spizzichino e oggi ho voluto chiudere un po' il nostro palinzesto di Open Day Cinema con questo festival che partirà la prossima settimana al 31 maggio al 4 giugno a Pescara è la 27esima edizione tra i più longevi e quindi se abbiamo eccolo l'ospite buongiorno a Roberto Genovese buongiorno ci vedi, ci senti perfettamente? perfettamente anche noi visto che tutto funziona switchiamo il segnale e introduciamo l'ospite anche in diretta radiofonica abbiamo ascoltato Marco Mengoni con l'essenziale ma l'essenziale è pensare ai nostri ospiti i protagonisti dei nostri appuntamenti con Open Day Cinema e chiudiamo guardando all'immediato futuro con un nuovo appuntamento con Cartoons on the Bay e abbiamo con noi il direttore artistico quindi diamo il benvenuto ufficialmente a Roberto Genovese ben arrivato su Radio In buongiorno buongiorno grazie buongiorno Roberto grazie grazie soprattutto alla collega Raffaella Spizzichino per avere creato questo ponte questo collegamento per un festival longevo siamo alla 27esima edizione c'è tanto colore nel nostro studio perché questa locandina così colorata ci ricorda un pulcinella awards ci racconti questo festival ma Cartoons on the Bay nasce nel 1996 ma non la faccio così lunga perché io in realtà arrivo nel 2009 prendo le redini di questo festival quando la Rai decide di trasformarlo da festival esclusivamente di cartoni animati in un festival che guardava anche ai fumetti ai videogiochi ai social e a tutto quello che oggi è materia quotidiana dei bambini e dei ragazzi quindi per me sono 13 edizioni e questa che si svolge a Pescara dal 31 di maggio al 4 di giugno ha come manifesto quello che avete alle spalle un'opera fatta in esclusiva per noi da Monica Manganelli che è una scenografa molto conosciuta a livello internazionale vi dico semplicemente che ha fatto le scenografie di Claude Atlas e ha collaborato con le sorelle Vachowski per Matrix quindi wow è un'italiana importante nel mondo insomma e a lei sarà dedicata anche la mostra del festival che ha dato colore in qualche modo anche a Pulcinella sì perché il Pulcinella è il simbolo di Cartoon Sunday Bay da sempre lo abbiamo portato un po' in giro per tutte le coste italiane anche nelle grandi città e quest'anno per la seconda volta a Pescara lo sarà il prossimo anno anche per la terza volta quindi è una collaborazione con l'Abruzzo e con la costa abruzzese che prosegue diciamo in un triennio Roberto voglio ricordare i numeri di questo festival oltre 300 iscrizioni di opere provenienti da 51 paesi sono cinque giornate intense con tanti professionisti del settore ma è anche e soprattutto un momento di festa per tante famiglie e questa è la parte più gioiosa e più bella che mi piace di questo festival lo ricordo veramente da tanti anni indietro ma la cosa importante di questo festival è che siccome è realizzato dalla RAI non prevede il pagamento di un biglietto per tutto il programma che diciamo noi offriamo al pubblico ai professionisti e alle famiglie è fruibile gratuitamente quindi le rassegne cinematografiche le anteprime gli spettacoli musicali in piazza le sessioni di gioco di ruolo quindi abbiamo anche i cosplayer insomma è un festival abbastanza grande abbastanza articolato per cui non si paga il biglietto ci si accede tranquillamente attraverso l'accredito vogliamo vedere un po' di immagini nella diretta Facebook così li facciamo commentare proprio al suo direttore artistico lo facciamo subito e come sempre diamo spazio alla musica alla radio mentre noi ci spostiamo in streaming sulla pagina Facebook di Radio In qui in radio arriva Miley Cyrus e questa è la sua River vediamo queste immagini cosa sono e così possiamo raccontarle Roberto lasciamo a te la parola ecco ci parlavi di cosplayer e qui vediamo dei protagonisti a dimensioni più che umane un po' più grandi sì allora questi sono i personaggi di Rai Kids che è uno dei pilastri di Cartoon Son The Band insieme a Rai Play e a Rai Radio Kids sono le direzioni Rai che si occupano anche di bambini e ragazze che collaborano ogni anno con noi abbiamo visto nelle immagini anche una foto in bianco e nero di Harry Folman che è uno dei nostri ospiti d'onore del festival che quest'anno ha il premio alla carriera insieme a Peter Lord che è l'altro grande ospite di Rai Folman lui ha fatto moltissimi film tra cui Balzer con Bashir e l'ultimissimo Anna Frank e sarà con noi giovedì mattina anche in collegamento con le scuole di tutta Italia per poter fare un intervento intervista anche con domande da parte dei bambini e qui vediamo i personaggi di Rai Radio Kids e di scusate di Rai Kids con alcuni dei personaggi in carne e ossa più conosciuti dai bambini che appaiono ogni giorno su Rai Yo Yo e su Rai Gur questo è il manifesto del festival il nostro manifesto di quest'anno con un pulcinella molto Salvatore Dalì diciamo così per fare un paragone è vero senti Roberto parliamo dei premi scusami dimmi volevo parlare dei premi lo facciamo spostandoci abbiamo dato spazio alle immagini ritorniamo è finito il brano alla radio ritorniamo anche dall'altra parte così parliamo appunto dei premi grande ritmo a questa mattinata con Miley Cyrus qui su Radio In stiamo parlando di un appuntamento straordinario quello che ci aspetta però volevi saperne di più dei premi Ivan sì parliamo di Cartoons on the Bay dal 31 di maggio al 4 giugno a Pescara la 27esima edizione in compagnia del direttore artistico Roberto Genovesi ci sono tre pulcinella award che assegnerete sì noi ne assegneremo diversi in realtà assegneremo i pulcinella awards a otto categorie in concorso che sono divise per target sono divise per contenuti che sono le classiche i classici premi per la televisione dedicata ai bambini poi la direzione artistica e il comitato editoriale assegneranno altri pulcinella award speciali e cioè i premi alla carriera Peter Lord e Harry Folman il premio allo studio dell'anno a Ian McKinnon che per capirci è il responsabile dei puppets del Pinocchio del Toro che quest'anno ha vinto l'Oscar bellissimo poi mi ha vinto l'animazione e poi assegneremo il premio Transmedia al Fenomeno Cuphead che è una serie di cartoni animati che è anche videogioco è anche fumetto è anche social quindi insomma è un vero e proprio fenomeno crossmediale e poi avremo anche il premio Sergio Bonelli che da due anni è partner di Cartoons on the Bay in esclusiva e quest'anno viene assegnato ad Altan che naturalmente tutti conoscevano senti ti metto subito una locandina c'è un momento veramente importante il primo giugno c'è l'anteprima italiana del film I Cavalieri dello Zodiaco sì è una delle anteprime che noi ogni anno proponiamo al pubblico quest'anno apriamo con I Cavalieri dello Zodiaco che è dedicato ovviamente a una delle serie d'animazione più importanti degli ultimi decenni è diventato anche un film live action e lo proponiamo al Teatro Cinema Massimo alle 21 del primo di giugno naturalmente anche in questo caso ingresso gratuito questa saga di Masami Kurumada ho pronunciato bene live action si poi ci sono i puristi della lingua che avremmo sempre di dire qualcosa noi ne abbiamo uno in regia che ha fatto la faccia strana infatti quindi insomma però ci sono questi ritorni questi live action che stanno portando a tornare ad attualità anche delle cose con i quali siamo cresciuti da bambini chi oggi bambino proprio non è ci sono questi ritorni che secondo me fanno anche bene ad unire un po' le generazioni immagino nelle famiglie genitori che si ritrovano con figli a condividere anche se con forme diverse delle storie che hanno segnato delle parti delle loro rispettive vite beh sì è una delle cose più belle di questo festival anche perché noi avremo anche il concerto di Giorgio Vanni che è una delle voci più importanti delle colonne sonore dei cartoni armati diciamo degli anni anche 10-20 anni fa per cui vedremo le famiglie non vorrei fare errori ma tipo Dragon Ball o cose del genere anche tra le altre sì beh insomma Giorgio Vanni è uno dei nomi più importanti in assoluto quindi vedere queste famiglie con papà mamma forse qualche nonno pure che canta a questo punto i bambini degli anni 70 in qualche modo possono essere anche già giovanissimi nonni Roberto vorrei tanto trovarmi a Pescara in queste giornate del festival sarà veramente un tripudio di colori di animazione una città davvero che per queste giornate del festival ritornerà bambina passami il termine un po' metaforico sì beh l'importante è restare sempre bambini più che di tornarci anche perché in questo modo si riesce a vedere le cose in maniera molto più trasparente perché gli adulti hanno delle sovrastrutture che qualche volta impediscono di vedere le cose come stanno per cui non sono io che lo dico l'ha detto qualcuno molto più importante di me di tornare come bambini insomma per cui assolutamente ma il tuo rapporto con l'animazione prima di arrivare al cartoon on the bay era un rapporto già importante ma io in realtà sono un dirigente rai che viene dal mondo dei fumetti dei videogiochi dai giochi di ruolo dall'animazione che non ho mai smesso nel senso che non è che oggi indossando il cappello di diciamo di dirigente rai ho smesso di giocare ai videogiochi e di guardare i cartonimati anzi lo faccio ancora con più interesse perché per mestiere lo fai soltanto per mestiere mi pagano per farlo io aggiungerei anche un po' catartico è bellissimo è bella anche la storia è bello anche per raccontare anche tanti giovani appassionati di come si possono evolvere lavorativamente passioni di questo tipo e trasformarsi in un lavoro importante come quello del direttore artistico di un evento di questa portata di un dirigente di quella che è la la massima rappresentazione della nostra dell'informazione ma anche appunto dell'audiovisivo nella nostra nazione quindi è bello poter scoprire come da una grande passione possono venire fuori poi delle esperienze di vita e di lavoro così importanti quindi ti ringraziamo anche per averci portato la tua testimonianza personale Roberto ma in realtà il settore dell'animazione è un settore che in prospettiva ha delle potenzialità enormi dal punto di vista professionale e lavorativo ma anche quello dei videogiochi cioè cose che vengono considerate per bambini tra virgolette in realtà a livello internazionale portano dei capitali muovono dei capitali enormi assolutamente e la disney che nasce con i cartonimati è una delle diciamo dei brand uno dei dei nomi più importanti dell'industria mondiale perché controlla una percentuale enorme di aziende che si occupano di cinema di cartonimati di videogiochi quindi insomma è un vero e proprio lavoro beh questo è anche un privilegio per te da dirigente Rai i miei complimenti a Raicom per l'organizzazione e il mantenimento di questo festival e davvero ce n'è tanto bisogno noi amiamo il cinema d'animazione ospitiamo spesso chi lo realizza e chi e chi lo promuove quindi Roberto grazie grazie davvero di essere stato con noi lunga vita a cartoons on the bay l'appuntamento è dal 31 maggio al 4 giugno a Pescara grazie a voi e se volete io comunque vi aspetto a Pescara in quel periodo eh non sarebbe dobbiamo parlare con l'editore secondo me non ci molla però vi seguiremo a distanza ma seguiremo grazie Roberto Genovesi buon lavoro e bocca al lupo ciao grazie grazie abbiamo la pubblicità l'ultimissima di questo nostro pen dei cinema e poi torniamo ancora qui insieme con voi in diretta grazie a tutti grazie a tutti